Ti piacerebbe gestire gruppi Facebook di utilità sociale? Crea i contenuti di utilità sociale e di benessere collettivo? Ti piacerebbe divulgare le tue competenze attraverso la nostra communti? Ti piacerebbe portare avanti un progetto di utilità sociale nel tuo comune di residenza? Ti piacerebbe citare i nostri progetti sociali nei tuoi video su YouTube? Allora vai sul nostro sito ufficiale per capire chi siamo, cosa abbiamo fatto e qual è la nostra mission. Il nostro motto è, il futuro migliore ce lo creiamo noi, insieme. Agisci adesso! Use images or videos to say the company information, including what products and services the company provides, the company development history, where is the headquarter, etc. This is the video ending, add your channel ID and use it as a video watermark.